Gentili telespettatori buona giornata e così Ilaria Salis manda un messaggio a Mattarella dal carcere di Budapest. L'insegnante italiana detenuta in Ungheria da oltre un anno ha ringraziato il Presidente della Repubblica per la telefonata fatta l'altro giorno al papà Roberto impressionata dalla sua rapidità. Sono molto contenta scrive ringrazio davvero il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mi è molto impressionato che abbia telefonato lui in prima persona e che io abbia fatto e lo abbia fatto con questa rapidità. Lo ringrazio davvero tanto per il suo coinvolgimento. Così la Salis ha voluto ringraziare il Capo dello Stato come ha riferito l'agenzia ANSA per suo padre Roberto contattato sabato da Mattarella. Diciamo che il coinvolgimento di Mattarella è solo pro forma, non è un vero coinvolgimento. Il Capo dello Stato cosa può fare? Realmente. Può chiamare Meloni e dire ma non c'è qualche possibilità, stai facendo qualcosa, può fare questo. Può telefonare lui direttamente a Orban dicendogli non so neanche che cosa perché quella viene accusata da uno Stato straniero, evidentemente le prove non ci sono, però a loro serve comunque come Stato estremista di destra accusare un estremista di sinistra è il massimo per loro. Visto anche le elezioni europee serve proprio come propaganda elettorale. L'accusa è quella di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di militanti di estrema destra. Secondo l'accusa sarebbe stata trovata in un taxi con altri accusati della stessa cosa e avrebbero, mettiamo il condizionale avrebbero perché le prove non si sa se realmente esistono o no, l'avrebbero trovata con un manganello nello zaino. Loro hanno dedotto sei in taxi con un manganello nello zaino con altri accusati della stessa cosa, hanno fatto uno più uno fa due. sembrerebbe un'accusa che deriva da una deduzione, non da una prova, ma una deduzione. Se tu sei in taxi con altri accusati e hai un manganello nello zaino, automaticamente diventi colpevole. Diciamo che in Italia non sarebbe mai andata in carcere neanche un secondo e probabilmente neanche accusata perché in Italia devi avere le prove schiaccianti per accusare qualcuno. Probabilmente, utilizziamo sempre i condizionali, probabilmente queste prove non esistono. Schiaccianti, non ci sono, sono delle deduzioni. Il padre ha spiegato che l'aria sta bene e si sta riprendendo. Dopo l'udienza di giovedì scorso, quando è stata respinta, la richiesta di passare ai domiciliari avanzata dai suoi colleghi. Ma guardate che alla fine passare ai domiciliari, il domiciliari sarebbe solo in attesa del giudizio. Se poi ti danno 24 anni di carcere, andare ai domiciliari o non andare domiciliari non è che cambia molto. Ecco. È stata una brutta botta, ha proseguito il padre della 39enne docente milanese, perché ci contava molto ma ha un piglio abbastanza forte e non ho dubbi che sopporterà bene questa prova di resistenza. Quanto successo giovedì con la sentenza per Ilaria con quella per Gabriele Marchesi ha rafforzato l'impressione che c'è qualcosa che non va bene e c'è chiaramente una disparità nell'attuazione dei principi costituzionali. Caro papà di Salis, Roberto, tu parli di disparità nell'attuazione dei principi costituzionali, ma i principi costituzionali sono in Italia, la Costituzione è italiana, sono leggi italiane. Gabriele Marchesi è tranquillamente libero, come vi dicevo prima, perché non ci sono prove, mentre la figlia, tua figlia, è in Ungheria col guinzaglio perché loro deducono che sia colpevole, senza prove. Poi magari lo è, chi lo sa? Ecco. La domanda è perché è partita dall'Italia per andare in Ungheria? A fare che cosa? A chiacchierare con i neonazi? A fare una manifestazione pacifica? Ho qualche dubbio, però sono dubbi, non sono prove. Questa è la differenza, ed è la differenza tra Gabriele Marchesi, che è libero in Italia, e la figlia che è al guinzaglio. C'è una disparità nell'attuazione dei principi costituzionali? Ovvio. Gabriele Marchesi è riuscito a tornare in Italia e ha tutti i principi che vuoi della Costituzione. La figlia, Salis, è al guinzaglio in catene in un paese dove comanda una sorta di regime di estrema destra. È chiara la differenza? Si aspetta ora l'esito dell'appello presentato contro la mancata concessione dei domiciliari, che se non altro verrà giudicato da un'altra corte e non sarà più nelle mani del giudice SOS, si chiama così. Il giudice SOS che ha un evidente pregiudizio nei confronti di Ilaria e che in Italia sarebbe già stato ricusato. Lasciamo perdere i paragoni con l'Italia ancora. Noi siamo la Repubblica of bananas, quindi non fa testo quello che succede in Italia, non fa assolutamente testo. A questo punto un altro giudice, ma è la stessa cosa. Non so se avete capito che in Ungheria comanda Orban che controlla e decide tutto sulla magistratura. Non c'è il giudice che decide realmente, è quello che il governo decide, è quello che si fa. Questa è la realtà. Cambiano il giudice, magari l'altro giudice. Non c'entra niente il giudice. Il giudice fa quello che gli viene detto. Lo hanno detto chiaramente tanti intervistati in Ungheria, dove in Ungheria la magistratura ufficialmente è indipendente, ma realmente sotto il controllo di Orban, tramite il capo della magistratura, che è un amico fedelissimo di Orban sempre. Non so se è chiaro, cambia il giudice. Quello che deve cambiare è quello che vuole fare Orban, non quello che vuole fare il giudice, perché il giudice lì semplicemente fa quello che gli viene detto di fare. Quando lo capiremo saremo già a metà strada. Grazie a tutti e arrivederci a presto.